Come rispondere alle offese con eleganza e aggiungerei anche con intelligenza. Recentemente ho fatto un sondaggio su Instagram e mi avete risposto in tantissime per chiedervi quali argomenti voleste vedere trattati in questa rubrica e in tantissime mi avete chiesto un video dedicato appunto a come rispondere alle provocazioni, alle offese che un po' a tutte saranno capitate nel corso della vita e che alcune danno un po' del filo da torture perché non è sempre facile trovare la risposta giusta a quella che risolve il problema magari a lungo termine con determinate persone e soprattutto farlo con eleganza, classe e direi anche con intelligenza. Quando siamo oggetto di insulti o provocazioni la nostra prima reazione potrebbe essere quella di rispondere con rabbia o di sentirci offese quindi di zittirci del tutto. Ma imparare a gestire queste situazioni con eleganza può aiutarci a mantenere la nostra dignità e anche a trasformare l'energia negativa in qualcosa di positivo. Perciò il primo punto essenziale quando vi trovate di fronte a un'offesa è quello di mantenere la calma. È comprensibile che possiate sentirvi arrabbiati o anche offese ma è altrettanto importante evitare di reagire in modo impulsivo. Piuttosto respirate profondamente e prendete un momento per raccogliere bene le vostre idee. Infatti rispondere all'offesa con rabbia o addirittura con agitazione può solo peggiorare la situazione. Ricordate che siete responsabili solo delle vostre azioni e non di quelle degli altri quindi concentratevi su quello che potete controllare cioè la vostra reazione. Mantenere la calma vi aiuterà a raggiungere una risposta più ponderata e anche più ragionevole. Vi darà il tempo di valutare le vostre opzioni e anche di scegliere la risposta migliore. Potete prendere una pausa, allontanarvi dalla situazione anche proprio fisicamente e riflettere prima di rispondere. Bisogna ricordare che mantenere la calma non significa accettare l'offesa o addirittura ignorare il problema. Significa semplicemente gestire la situazione in modo controllato e ragionato. Il secondo consiglio è quello di smascherare l'avversaria ma di farlo con classe. Molto spesso infatti soprattutto quando l'offesa viene da un'altra donna non si tratta di offese dirette almeno non nell'età adulta. Una superata all'adolescenza è difficile che un'altra donna arrivi e ci insulti proprio in modo aperto. Spesso no, si tratta di frecciatine molto velenose ma altrettanto sottili, di cose che magari l'avversario pensa che ci metteremo quell'attimo in più per capire che si tratta di un'offesa e questa è una cosa che è capitata anche me diverse volte. Per esempio un paio di anni fa quando questo canale youtube stava iniziando a decollare, soprattutto quando ero già una blogger abbastanza conosciuta, che era stata intervistata anche alla televisione, ho ricevuto un papiro lunghissimo da parte di una persona che tra l'altro non ho mai incontrato nella vita di tutti i giorni, una persona, una ragazza, diciamo donna, che apparentemente lavora nel settore della moda e questa persona, nel scrivermi questo papiro, sembrava inizialmente che volesse farmi dei complimenti dicendomi come ero stata brava, quanta tenacia e quanta determinazione avessi messo in quello che avevo fatto e quindi di conseguenza quali risultati avessi ricevuto. Purtroppo questa email molto velocemente si è rivelata ben altro. Questa persona che poi si professava una perfezionista è quello che intendeva in realtà ed era abbastanza evidente dal resto del messaggio e che lei si riputava perfetta, però purtroppo aggiungeva non avendo la mia tenacia e la mia determinazione quasi furiosa come lo descriveva lei nel raggiungere determinati obiettivi, purtroppo non aveva ancora di fatto combinato niente e questo solo perché lei era così perfetta ma così perfetta che forza di lavorare alla perfezione, a perfezionare le cose che voleva fare, non aveva di fatto mai combinato niente. L'offesa non stava tanto in quello perché molte persone si definiscono perfezioniste quando in realtà intendono sono perfette, poi nella vita non combinano mai niente perché non arriva mai il punto in cui sono perfette abbastanza, ma soprattutto l'offesa era nel continuare a ribadire che io avevo secondo lei ottenuto determinati risultati semplicemente perché era una sgobbona sostanzialmente, non lo scriveva in questi termini ma era abbastanza chiaro. Io purtroppo ho sbagliato perché invece di smascherarla subito e chiederle o apertamente che cosa intendesse ed era chiaro che cosa intendesse oppure di dirle apertamente, senti io lo trovo offensivo che tu non mi attribuisca alcun merito, alcuna capacità o competenza in quello che faccio ma semplicemente affermi che tutti i miei risultati sono il frutto di un lavoro secondo te fuori misura, da avere proprio sgobbona, in pratica mi stava dando della secchiona, cosa che io non sono mai stata in vita mia, neanche meno a scuola e quindi mi dà veramente fastidio. Ricordiamoci che ogni volta che sminuiamo un'altra donna ci rifiutiamo di riconoscerne le capacità, i talenti, i meriti, diventiamo sempre più piccole anche noi, infatti questa persona mano a mano che leggeva il suo papiro lunghissimo veramente si riduceva molto nella mia stima perché si rivelava per quello che era. L'errore che ho fatto io è stato di non smascherarla, smascherarla, semplicemente molto freddamente l'ho ringraziata e pensate la faccia tosta, mesi più tardi questa persona mi è venuta a cercare con un ennesimo email in cui si lamentava del fatto che non l'avevo ringraziata abbastanza per avermi dato della sgobbona. Questo per dirvi che a volte è veramente il caso di smascherare la persona soprattutto quando ci lancia qualche offesa, qualche insulto in modo un po' velato, perciò nel momento in cui vi trovate di fronte a un'offesa, un insulto un pochino nascosto o comunque condito con dei finti complimenti potete decidere di smascherare l'avversaria senza però mai perdere la vostra eleganza. Ricordate comunque che l'obiettivo non è umiliare la controparte che probabilmente si sente già molto inferiore perché altrimenti non vi avrebbe mai lanciato simili offese ma è quello piuttosto di dimostrare la vostra sicurezza e la vostra intelligenza emotiva quindi siate sempre e comunque superiori però smascherate queste persone. Il terzo consiglio in questo caso è quello di rispondere con grazia se decidete di smascherare l'avversaria e quindi di rispondere fatelo sempre con classe scegliete le vostre parole con grande attenzione evitando insulti e un linguaggio volgare perché questo significherebbe scendere magari al livello della persona che avete davanti. Potete ribattere in modo pacato e anche sicuro di voi stesso evidenziando la vostra versione dei fatti o spiegando la vostra prospettiva. Ricordate sempre di mantenere comunque un tono rispettoso sempre per il motivo che abbiamo detto che altrimenti ci mettiamo allo stesso livello. Un altro consiglio è quello di mostrare empatia. Potete dimostrare empatia anche in una situazione in cui state smascherando la vostra avversaria. Cercate di comprendere le sue motivazioni in questo caso erano abbastanza chiaro e mettetevi un pochino nei suoi panni senza per questo scendere al suo livello. Questo potrebbe tra l'altro aiutare a creare un dialogo costruttivo se voi mostrate empatia e a far emergere una maggiore comprensione reciproca tra di voi. Questo naturalmente se vale la pena salvare il rapporto con questa persona o se magari dovete averci a che fare per forza. Un altro consiglio è quello di essere sempre assertive cioè durante la vostra risposta che darete mantenete la vostra sicurezza e anche la vostra capacità di argomentare. Non permettete che l'offesa vi intimidisca o vi faccia sentire inferiori. Esprimete le vostre opinioni con chiarezza e fermezza senza per questo diventare a vostra volta aggressive. Un terzo consiglio per rispondere con eleganza, classe e anche intelligenza alle offese è quello quantomeno qualche volta di rispondere con gentilezza. A volte infatti una risposta gentile può essere la migliore arma contro le offese. Potete ringraziare le persone per il feedback ricevuto ad esempio se l'offese in qualche modo vi viene rivolta in un contesto professionale e ribadire che apprezzate le opinioni diverse dalla vostra. La gentilezza a volte paga perché poi anche la controparte spesso si rilassa soprattutto se magari era un discorso caratteriale o la persona che ci ha offeso semplicemente ha un brutto modo di fare quindi questo permette anche all'altra persona di rilassarsi magari poi anche lei si rende conto di aver sbagliato e cambia un po' i toni. Questo capita in realtà abbastanza spesso. Tra l'altro questo tipo di atteggiamento mostra maturità e apertura mentale mentre al tempo stesso mette in evidenza la mancanza di rispetto che avete ricevuto quindi umilia la controparte a sufficienza. Quando decidete di rispondere con gentilezza infatti dimostrate di essere in grado di mantenere la vostra calma, la vostra compostezza e di affrontare la situazione in modo diplomatico. Rispondere con una risposta gentile può farvi emergere come persone che non si fanno coinvolgere in inutile polemiche e che preferiscono mantenere piuttosto un dialogo costruttivo. Un altro modo per rispondere con eleganza, classe, intelligenza a un'offesa ricevuta può essere l'arma dell'umorismo. L'umorismo è in particolare l'ironia che in questi casi è particolarmente utile purtroppo richiede una certa intelligenza quindi non tutte ne sono capaci e soprattutto non tutti e non tutte le persone che ci offendono sono in grado di capirla. Questo secondo me rende la cosa ancora più divertente perché poi voi magari state rispondendo e state magari rispondendo bene all'offesa senza che la persona magari se ne accorga, magari tutti gli altri se ne accorgono ma lei no e questo trovo che possa creare davvero quelle situazioni divertenti che poi portano anche proprio a ridere della situazione magari successivamente e a rilassare un po' la situazione. L'umorismo può essere un modo potente per rispondere all'offese con eleganza. Potete trovare il lato divertente della situazione e rispondere con battute leggere o con commenti appunto ironici senza mai sfociare nel sarcasmo perché anche se a volte potrebbe essere anche giusto utilizzarlo è sempre a sua volta estremamente offensivo. Quando decidete di utilizzare l'umorismo o anche l'ironia per rispondere a un'offesa infatti dimostrate che siete in grado di affrontare le critiche o le offese in modo leggero e anche con spirito. Rispondere con una battuta intelligente può sorprendere l'altra persona e farla anche riflettere magari sul comportamento avuto. È sempre importante però come vi dicevo fare attenzione a non cadere nel sarcasmo o comunque in l'umorismo che poi diventa a sua volta molto offensivo. L'obiettivo non è tanto umiliare l'altra persona ma rispondere in modo elegante e con classe. L'uso dell'umorismo può essere un'arma potente ma dovete essere consapevoli del contesto e anche delle persone che sono coinvolte. Un ultimo consiglio molto importante quando riceviamo un'offesa è quello di salvaguardare la stima che abbiamo di noi stessi e quindi di concentrarci subito anche sulle nostre qualità. Quando qualcuno ci offende infatti ricordiamo che le loro parole non definiscono chi siamo. Spesso le offese sono veramente del tutto gratuite da parte magari di persone che non ci conoscono affatto che non hanno nemmeno ascoltato bene quello che abbiamo detto. Perciò focalizziamoci piuttosto sulle nostre qualità, sui nostri valori e anche su tutto quello che abbiamo realizzato fino a questo momento e lasciamo che la nostra autostima rimanga intatta senza permettere mai a nessuno tantomeno un'offesa magari molto stupida e gratuita di scalfirla. Questa è veramente la cosa più importante perché se preserviamo noi stessi la nostra autostima saremo sempre in grado di trovare il modo giusto per rispondere a qualsiasi situazione anche negativa come nel caso di un insulto di un'offesa ricevuta. Insomma concludendo possiamo dire che rispondere alle offese in modo efficace con eleganza, grazia e anche con intelligenza si può ma richiede di solito un pochino di pazienza e di riflessione, mantenere la calma, ignorare o sorridere oppure rispondere sia con gentilezza oppure con ironia, magari anche smascherare con eleganza l'avversario e poi concentrarci soprattutto sulle nostre qualità interiore sono tutti modi per gestire al meglio in modo positivo e costruttivo queste situazioni e magari perché no insegnare anche un po' di buona educazione alle persone che abbiamo di fronte. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così qua sopra ve ne lascio subito altri due da guardare, iscrivetevi al canale e magari lasciatemi anche un bel like per supportarmi un po' e ci vediamo al prossimo video, ciao!